Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto alle ultime notizie. In apertura parliamo di uno strano furto avvenuto in provincia di Padova dopo i problemi degli istituti bancari popolari di Vicenza e Veneto Banca e le persone che hanno subito tutti i danni economici hanno presentato richieste di risarcimento, come sappiamo. Molti di questi dati bancari utili ai fini della causa e custoditi all'Associazione Ezzelino Terzo Daonara Giustizia Risparmiatori con sede a Tombolo sono stati derubati l'altro pomeriggio. I ladri che probabilmente hanno organizzato un colpo mirato a sottrarre proprio questi dati importanti dopo aver scassinato una porta ed essere entrati hanno portato via solamente i supporti contenenti la documentazione riguardante la causa. Un personal computer, un hard disk esterno e sei chiavette lasciando completamente perdere altri oggetti di valore che si trovavano sul posto. A chiamare i carabinieri e denunciare quanto accaduto è stato Patrizio Miatello, presidente dell'Associazione. A tutta l'impressione di essere un colpo mirato ha dichiarato ai carabinieri di Cittadella che ora stanno svolgendo le indagini per far luce su questo furto. In piena mattina un uomo con il volto coperto e armato di coltello è entrato in un negozio di alimentari a Villanova di Campo San Piero in provincia di Padova. Ha puntato la lama dell'arma contro il proprietario intimandogli di consegnare i soldi che erano presenti in cassa. In pochi attimi ha preso il denaro, poche banconote e poi si è dileguato in automobile. Pare abbia agito completamente da solo. Sul posto sono giunti gli uomini dei carabinieri che hanno avviato ovviamente nell'immediato le indagini per riuscire a catturare il rapinatore. Parliamo di fatture false per milioni e milioni di euro, addirittura oltre 12 milioni. Terminata in queste ore un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Cerchiamo di capirne di più. Grazie ad un articolato meccanismo di frode basato sull'utilizzo di fatture false, un imprenditore cinese attivo nel confezionamento di capi di abbigliamento ha evaso circa un milione e mezzo di euro di IVA emettendo oltre 12 milioni di euro di fatture false. Da oltre un anno la Guardia di Finanza indaga sul ruolo dell'uomo finito in manette che grazie ad una segnalazione per operazioni finanziarie sospette ha portato all'avviamento dell'operazione denominata Il Sarto. Fatture per operazioni inesistenti, un arrestato e dieci indagati, il sequestro preventivo di beni e la grossa evasione fiscale sono questi i principali risultati dell'operazione. L'uomo agiva emettendo false fatture tramite tre società cartiere riconducibili a soggetti cinesi in realtà prive di una sede in cui operare di dipendenti, di mezzi e locali idonei allo svolgimento di una normale attività imprenditoriale. Grazie agli approfondimenti di carattere fiscale e alle indagini finanziarie sono stati ricostruiti flussi di denaro intercorsi e delineato al riciclaggio dei proventi illeciti, realizzato avvalendosi in particolare della collaborazione di un altro imprenditore compiacente ma estraneo alla frode fiscale. Il sequestro preventivo dei beni degli indagati predisposto dall'autorità giudiziaria è stimato per un valore di oltre 2 milioni e 600 mila euro. Parliamo di una persona scomparsa, Alex Abram Allingundan, un ragazzo di 26 anni di origine filippina. Dal lunedì 18 febbraio si era trasferito a San Biagio di Callalta a Treviso insieme ad alcuni suoi connazionali. aveva trovato anche lavoro in un ristorante della zona che lo aveva spinto a lasciare Roma e i suoi familiari con i quali viveva da maggio dello scorso anno. Lasciare la famiglia per Alex non era stato facile. Dallo scorso 22 febbraio inspiegabilmente di lui non si hanno più notizie. Quella sera dopo aver parlato con la madre al telefono è uscito dall'appartamento portando con sé cellulare e documenti, lasciando però tutti i suoi effetti personali all'interno della nuova abitazione. L'allarme è stato dato il giorno successivo quando il giovane non si è presentato al lavoro all'interno del ristorante. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini su questo caso esortando chiunque pensi di averlo visto, di avere sue notizie, a mettersi in contatto con loro. Adesso parliamo di un furto che è stato compiuto a Verona. Come da quotidianità i frati del convento di Borgo Roma a Verona partecipavano all'ultima messa della giornata, quando chiamati da uno degli ospiti del convento che aveva notato del fumo uscire dalla porta, sono accorsi. Inizialmente pensavano si trattasse di un incendio, ma la sorpresa rivelatasi ha lasciato tutti di stucco. Qualcuno era entrato di soppiatto e grazie all'ausilio di un flessibile era riuscito ad aprire la cassaforte contenente le donazioni delle ultime due settimane e il frutto delle vendite dei ricordi della Basilica per un valore di circa 20.000 euro. È scattata a quel punto la chiamata al 113 che velocemente ha inviato nella parrocchia della Basilica di Santa Teresa del Gesù Bambino gli uomini della questura della polizia scientifica. Non sono disponibili i filmati utili a identificare il malvivente, è però stata rinvenuta della sostanza ematica e delle impronte digitali che potrebbero condurre all'autore del furto. Il sospetto è che i responsabili sapessero già come muoversi e che siano andati a quel punto sul sicuro approfittando dell'ultima funzione religiosa. Spacciavano eroina nella terraferma veneziana prima di essere arrestati tra Mestre e Marghera dagli uomini dei carabinieri. Tre cittadini di nazionalità albanese sono stati trovati in possesso di oltre 3,5 kg della sostanza stupefacente. Nell'abitazione di uno di loro a Mira durante la perquisizione domiciliare militari hanno scoperto una stanza trasformata in laboratorio per confezionare e lavorare lo stupefacente. Non sono ancora noti altri dettagli. Il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, ha lanciato una proposta per rendere più agibile la difficilissima selezione che devono affrontare gli studenti volenterosi di frequentare la facoltà di medicina. Potremmo immaginare che subito dopo gli esami di maturità, detto siano le università, a farsi carico di un trimestre di formazione già universitario nel quale gli studenti iniziano a studiare le materie della professione medica. Al termine del trimestre di formazione sarebbe comunque previsto un vero e proprio esame universitario per la selezione di quei numeri programmati a Monte. Il rettore ha lanciato la proposta durante il corso di un'audizione alla Commissione Cultura della Camera sulle norme in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina. In questi giorni è stato donato, adesso sentirete con che modalità all'interno del servizio, un nuovo strumento per i controlli stradali. Si chiama Street Control. Al momento ce n'è solo uno in disponibilità della Polizia Stradale, ma sta già dando i suoi frutti. Si chiama Street Control ed è un regalo incomodato d'uso per 36 mesi dalla Fondazione Ania. La polizia stradale di Rovigo in pochi giorni è già riuscita a stanare numerosi furbi. L'occhio elettronico montato sul tetto dell'auto di servizio e collegato alla centrale tramite un tablet è in grado di verificare in tempo reale le targhe delle vetture in transito ben oltre le due corsie della sede autostradale che attraversa il Polesine e ogni qualvolta un mezzo viene incrociato senza la copertura assicurativa oppure con la revisione scaduta, ma anche se il veicolo è rubato o in lista nera. Gli agenti in servizio vengono allertati dal sistema che permette loro di individuare e bloccare facilmente i furbi. Per il momento la Polstrada ne ha uno solo, ma è bastato per elevare contravvenzioni a raffica nell'arco di soli tre giorni. Ne sono comunque in arrivo molti altri. Già tre auto sono state poste sotto sequestro, due circolavano senza assicurazione. Addirittura uno degli automobilisti fermati ha anche cercato di scappare, però per poco, perché subito è stato raggiunto dalle forze dell'ordine. Una vettura invece ha subito il fermo amministrativo perché viaggiava senza aver superato la consueta revisione periodica. Oltre 6.000 euro di multe totali, comprendenti anche veicoli immatricolati all'estero, sono stati raccolti. Dal primo marzo entra in vigore l'eco-tassa per tutte le auto più inquinanti. L'imposta riguarda soltanto le vetture immatricolate da marzo e scadrà il 31 dicembre 2019, data in cui è previsto anche il termine degli incentivi dell'eco-bonus per le auto elettriche e ibride. Lo scopo è quello di disincentivare l'uso delle macchine inquinanti e di spingere verso modelli con un minore impatto ambientale. Il dottor Giuseppe Puma è il nuovo primario del reparto di nefrologia e dialisi all'ospedale di Campo San Piero in provincia di Padova. Il dottor Giuseppe Puma è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero. La nomina è avvenuta quando il direttore generale dell'ULS 6 Uganea Domenico Scibetta ha posto la sua firma sulla delibera di incarico, che dà seguito ad esito di concorso pubblico. Giuseppe Puma, nato a Trapani nel 1955, si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova, quindi si è specializzato in nefrologia all'Università di Trieste. Giunge a Campo San Piero dall'azienda ospedaliera di Padova, dove è stato dirigente medico responsabile dell'unità operativa semplice, trattamenti extracorporei d'urgenza e speciali nei reparti intensivi, ricoprendo incarichi di alta specializzazione. Fin dall'inizio della sua carriera, il dottor Puma ha dedicato il suo impegno professionale scientifico e di ricerca alla cura dei pazienti affetti da insufficienza renale acuta e cronica in trattamento conservativo, dialitico o peritoneale, con particolare interesse alla disfunzione multiorgano e alle problematiche cliniche dei pazienti anziani fragili. Ha quindi maturato negli anni una profonda conoscenza delle tecniche dialitiche e delle tecniche extracorporei per la depurazione epatica. Adesso parliamo di clima, dopo queste giornate con un caldo durante le ore centrali della giornata decisamente anomalo. Vediamo cosa è previsto per domani, venerdì, sul Veneto. Avremo un cielo con una modesta variabilità, con significativi spazi di sereno alternati a qualche addensamento nuvoloso, soprattutto dalle ore centrali del pomeriggio. Nelle ore più fredde, quindi nelle ore serali notturne e nelle prime ore della mattina in pianura e in alcune valli sarà probabile qualche riduzione della visibilità. È tutto per questa edizione, ringrazio tutti voi per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di programmi con Telecittà. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS